giochiamo insieme a che stasera partendo da stella r o finale e terzo elemento stella come con il cerchio richiamo anche o tipo la scia per ritorno un ritorno la stella alla stella del cinema stella quindi ritrovo potrebbe essere sia la forma quindi geolettrica anche la stella del cinema anche la stella volare la stella al fiore si è la stella albina la stella alpina quindi rilievo rilievo sennò la qualche costellazione qualsiasi azione che creano le stelle che sul presente c'è la stella con quella coda della stella stella è anche una cosa che ti guida nella percorso il percorso ritrovo ritorno ritorno di una stella magari del cinema ritorno al cinema in un film sono righi rialto 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 no rilievo 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 anche con sempre satelliti si una stella benedetta e vogliamo comprare sì sì compriamo il terzo elemento ok allora dimettiamo resta un bel monte premi 6.750 euro ecco il terzo elemento vocale vocale un richiamo un richiamo richiamo un ritorno vocale un ritorno tipo un ritorno un ritorno vocale può essere un ecco si sono vocale come sale a livello di voce si la stella un rinvio però rinvio del vocale ricatto il ricatto rientro no vocale non c'è la vocale anche così grammaticale tipo rinomato sinonimo di stella tipo una stella del cinema una persona famosa avevamo detto rispetto no rispetto alle cosa la vocale la vocale anche la lettera la vocale la vocale risuono risuonatori rinca ritorno il ritorno di una stella ritorno vocale eletto ritorno vocale e richiamo richiamo stella mi dice ritorno ecco il gong benedetta quale parola vi giocate noi proviamo con ritorno il ritorno di una stella magari un'attrice che torna al cinema fa un altro film dopo tanti anni oppure il ritorno vocale l'eco è un ritorno della tua voce giusto esatto allora rientro ormai attraverso la voce spesso riusciamo a dialogare anche con degli apparecchiature attraverso la voce no anche il telefonino si usa a volte la voce la tua voce anche chiunque passa può utilizzare il tuo telefono ricordo e la stella è un simbolo anche nei ristoranti negli alberghi rinomato se è più rinomato o meno rinomato andiamo a scoprirla la parola che lega stella e vocale e valore di 6.750 euro che hai detto anna riconoscimento è riconoscimento vocale no sai telefoni ti riconoscono la voce e la stella è un riconoscimento quello che danno gli alberghi ai ristoranti